Mese 6, giorno 9, capitolo 14, verso 9. Grazie e buongiorno a tutti. Gli insensati si burlano del peccato, ma il favore del Signore sta tra gli uomini retti. Per molti anni nella mia vita ho pensato che la legge dei Dieci Comandamenti fosse il modo con cui Dio mi teneva sulla retta e stretta via, che mi avrebbe infine portato a lui. Errato. Paolo è forse l'autore biblico che ha analizzato più profondamente il tema della grazia e lui sostiene risolutamente in tutte le sue epistole che la legge non c'è stata data da Dio per il suo vantaggio, ma per il nostro. Che cosa intendo dire? Dio non basa il suo rapporto con noi sul nostro comportamento, tra parentesi, il rispetto della legge, no, ma sulla sua decisione di comprendere tutta l'umanità in Gesù Cristo, se noi lo desideriamo, e quindi di perdonare automaticamente i peccati a tutti noi, come un padre fa con un figlio. Allora, perché la legge? Paolo dice in Galati, capitolo 3, che la legge ci fu data per guidare gli uomini a Cristo ed era una specie di tutor per farci sapere come vivere in modo sicuro e proficuo. In altre parole, Dio dice a Suoi figli, fate come vi dico e vivrete bene, o ascoltate i miei comandamenti, non peccate più e vedrete come vivrete bene. Ecco perché gli insensati si burlano del peccato, ma il favore del Signore sta tra gli uomini retti. Non perché a Dio non piacciono gli uni e preferisca gli altri, ma perché Lui sa che cosa è bene per noi e cosa non lo è. E ci fornisce dei parametri e dei guardrail, entro i quali non avremo successo in quella vita che Lui, il Supremo Creatore, Padre Eterno e Omnisciente, ci ha dato da godere. I risultati sono semplici, favore per i saggi, fallimento per gli insensati. Oggi mi ricorderò che Dio conosce meglio di me dove sta il successo e seguirò le sue istruzioni e i suoi comandamenti per arrivarci. A domani! Grazie a tutti! Grazie a tutti!